Quando sei in comodo si potrebbe anche fare un secondo, si aspetta un secondo per non ti manda a fanculo. Capito? Capito? Purtroppo oggi i giornalisti pagati fior fior d'euro, perché appunto gente che si spaccia da giornalista e che costa fior fior d'euro. Gente che si spaccia e gente che spaccia. Beh, io penso che per lo sport oggi abbiamo finito, perché da quando la Juve ha vinto lo Scudetto? Ha questo atteggiamento qui. Più carico è da quando l'Arezzo 90 su 100 fa la T-Cup, questa è la cosa più importante. Vogliamo esautorare Maurizio da parlare dell'Arezzo, tanto non ha mai contato un cazzo, facciamo così. Io risparmio 5.000 euro al mese. Due cose, diciamo, rapide perché sta scadendo. Due cose della Serie A. Della Serie A che vuol dire che l'unica cosa, buongiorno a tutti, di interessante che ci è rimasto, è questo derby della Capitale per il secondo posto, c'è il ritorno del Napoli e soprattutto c'è questa profonda crisi delle milanesi, una crisi che secondo me oltre che tecnica è una crisi proprio anche di identità. Per motivi diversi l'Inter dopo il triplete famoso ha depoperato quel patrimonio e non ci ha più ricavato niente. Il Milan ha bruciato due cone tra Sidor e Fenzaghi, alle quali ha sicuramente consegnato squadre non competitive, ma soprattutto ha fatto il grande errore di dare al pubblico delle aspettative con degli allenatori neofiti. Insomma, al minimo di anticamera ci voleva per entrambi, però insomma, forse con un allenatore esperto arrivava sesta, non nona, ma comunque non sono squadre. Ora arriva da una parte c'è un filippino, da qua c'è un cinese, forse arriva, e nel mezzo poi c'è il presidente della Sandole che è in fumetto. Questo è il calcio. Capito. Ciao a tutti. Pagato profumatamente per dire queste banalità. Vedino il cappello, è favoloso.